Grazie Di qua ragazzi, seguita per... Allora signori, per quelli di voi che hanno scelto il gruppo di lavoro del mattino c'è una sorpresa Avanti, andiamo, tutti in mezzo alla strada Ci scusi Grazie Ci scusi Scusi Venite qui Va bene Forza, venite tutti qui Ora fermatevi un momento per guardarvi intorno E ditemi ciò che vedete e che sentite Ok? Ok? Ciao Lorraine Macchie, i clac sono delle macchine Bene Natalie Martelli pneumatici Qualcun altro? Gli stop, lucidi stop Cemento Un povero salzatezza Immondizia Ditto medio alzato Bene, fantastico Ora fissatelo nella mente e seguitemi Allora, adesso che vedete? Lorraine? L'oceano Bene Alberi Spesso Grattacieli altissimi Il Monte Renier Fiumi Bellissimi Il sole Sì Una donna nuda nella vasca Wow È un po' diverso Eppure È lo stesso posto Non siamo andati da nessuna parte Stiamo soltanto guardando le cose da un nuovo punto di vista Dentro ognuno di voi ci sono le sirene Ci sono i clacsoni e gli ingori Però c'è anche Questo Dobbiamo soltanto fare lo sforzo Di salire le scale per trovarlo Hai una giornata